Nonostante l'emergenza coronavirus abbia impedito di accogliere il nuovo comandante con una cerimonia di avvicendamento, questa mattina all'ufficio circondariale marittimo di Fano si è tenuto ufficialmente il cambio al vertice. Dopo circa un anno dal suo arrivo in città, il tenente di vascello Giancarlo Alessandro Castellana lascia il comando nelle mani del tenente di vascello Anthony Turzo, 34 anni, originario di Grottaglie in provincia di Taranto. Le prime impressioni molto positive, soprattutto in considerazione dei rapporti che intercorrono tra l'ufficio circondariale marittimo di Fano e le istituzioni e le forze di polizia locali. Ho avuto modo da subito di constatare la sinergia che intercorre tra l'autorità marittima e le realtà locali quindi il comandante Castellana è stato molto puntuale nel gestire questi rapporti e sono molto entusiasta di poter rilevare una situazione ben consolidata in tal senso. E quindi che cosa si augura? Di continuare sicuramente sul percorso già tracciato dal mio predecessore in un contesto di massima sinergia, collaborazione e dialogo con il cluster marittimo, con gli operatori portuali e le istituzioni. È stato un periodo intenso sia dal punto di vista operativo che tecnico-amministrativo, ha poi commentato il comandante uscente Castellana che ha fatto un bilancio dell'attività svolta durante l'incarico in Capitaneria. Lascio l'incarico orgoglioso di aver comandato questo ufficio circondariare marittimo così prestigioso, onorato di aver vissuto in questa splendida cornice della città di Fano, una bellissima città che ho amato, soprattutto appunto per la sua cultura e tradizioni ma anche per il carattere dei fanesi, così sempre disponibili in tutte le situazioni, quindi porterò questa esperienza di comando sempre nel mio cuore. Sono serenamente convinto di aver dato il massimo e anche questo grazie al supporto del comando generale del corpo del capiporto Guardia Costiera e poi della direzione marittima di Ancona e soprattutto della capiporto di Pesaro, quindi qui devo ringraziare sicuramente il capitano di frecata Maurizio Tipaldi che mi ha appunto sempre fornito ottimi preziosi e lungimiranti consigli, sicuramente è stato un esempio di guida autorevole e comunque sicuro punto di riferimento per ogni situazione critica riscontrata. Castellana che è stato designato alla Capitaneria di Porto di Crotone ha colto l'occasione per ringraziare tutto il personale che ha svolto il lavoro con passione e spirito di sacrificio, presente in mattinata anche il comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro. Sì, oggi è un momento molto importante perché cambia il comandante di Fano e ovviamente per la Guardia Costiera rappresenta un momento di sintesi, di un bilancio dell'anno passato e un impegno nella continuità per l'anno che verrà. Chiaramente è condizionato dalla nota pandemia, quindi anche la cerimonia che sarebbe stata un momento per salutare la cittadinanza e per ricevere anche il giusto tributo da parte delle autorità e dei cittadini tutti è venuta a mancare, quindi usiamo tra virgolette la stampa e i media per poter comunicare questa circostanza.